Taranto, 27 ottobre 2020, le immagini parlano da sole e ci dimostrano come Arcelor Mittal sia una realtà, un'industria assassina con uno stato complice, uno stato assassino che consente ad Arcelor Mittal di uccidere i tarantini. Queste immagini sono state registrate questa mattina, 27 ottobre, alle ore 6.50, sono state fornite, cortesemente pubblicate su Facebook, da un imprenditore e un ambientalista convinto, quale è appunto Emanuele Battista. Guardate quello che si sprigiona nell'aria, penso che ci sia poco da dire, ci sia poco per giustificare Arcelor Mittal. Il Presidente Conte non vuole rinunciare ad Arcelor Mittal e quindi a questo punto ci ha condannati inesorabilmente ad una fine atroce. Quel Presidente Conte, quel pagliaccio di Stato, perché così va definito, massimo rispetto alla figura istituzionale, alle istituzioni che l'Italia esprime, la Presidenza del Consiglio, il Presidente del Consiglio, ma questa è una critica all'uomo, al pagliaccio Giuseppe Conte, perché così va definito. Una persona che chiude le palestre, che chiude i centri di benessere, i centri di bellezza. Un personaggio che impone a bar, ristoranti, pub e quant'altro di chiudere alle ore 18 e consente ad Ilva Arcelor Mittal di uccidere. Arcelor Mittal gode di una copertura firmata dallo Stato, assicurata dallo Stato, assoluta. Si tocca tutto. Si vanno a colpire i poveri Cristi, che fanno i salti mortali per guadagnarsi la giornata e per mettere insieme il pane con la cena, e poi si consente ad Arcelor Mittal di uccidere. Perché le immagini di questa mattina, queste immagini che vi stiamo mandando a Iosa, la dicono lunga. La dicono lunga su quello che è il destino di Taranto. Una Taranto però, devo dire, che si deve ribellare, che deve denunciare, che deve contrastare questa realtà, non subire passivamente. E mi sento di ringraziare l'amico Emanuele Battista. Lui è un imprenditore, una persona che ha uno splendido, non voglio fare pubblicità, ma lo devo dire, uno splendido bed and breakfast nella città vecchia, la terrazza di nonnanna, mi pare, e ha voluto investire sul territorio, ha voluto investire sul turismo, sfruttando le bellezze di questa città. Ma poi non può questa città essere stuprata da questo inquinamento, da queste ciminiere che seminano, che spargono nell'atmosfera veleni, morti e tumori. Questa è la realtà di Taranto. Un'ILVA assassina, Arcelor Mittal assassino, un governo assassino che consente di uccidere Taranto, però si vanno a chiudere le palestre. Quelle sì, lì c'è il problema. Si vanno a chiudere i bar, i ristoranti. Vergogna, Taranto ribellati, Taranto alza la testa, Taranto alza la voce, Taranto senza ILVA, senza se e senza ma.